Valorizzare il prodotto locale, sensibilizzare i consumatori sul concetto di stagionalità e lavorare 7 giorni su 7 sono gli obiettivi del nuovo mercato ittico al porto di Fano. Ma gli imprenditori presenti da anni in Piazza del Pesce e in pieno centro storico, che cosa ne pensano di questa imminente inaugurazione? Oggi abbiamo chiesto il loro parere. Ci sarà un primo momento dove la gente è incuriosita e quindi va a vedere o pensa che laggiù, siccome la vendita diretta dei marinai magari è più fresco di qualche ora, però alla fine si stabilizza tutto poi. Penso che sia solo una curiosità iniziale, anche perché c'è un fatto, i marinai hanno sempre venduto direttamente dalla banchina in certi modi e francamente per me forse è meglio che lo facciano in modo corretto, insomma con tutte le strutture necessarie e quindi anche in modo dichiarato, poi è chiaro che è una presenza in più nel mercato, ci dividiamo le cose. Secondo voi faranno concorrenza? Sì, un po' di concorrenza sì, però più o meno come prima, perché prima lo vondevano lo stesso laggiù il pesce, non erano in regola come adesso. Quindi non siete tanto preoccupati? No, un pochino sì, qualcosa ci tolgono, ma non più di tanto penso, più o meno come prima. Signora, lei ha paura della concorrenza? Eh beh, penso di sì, perché già che c'è poco lavoro e tanta crisi, certamente ci metterà proprio male, perché tanto la gente, c'è il parcheggio, c'hanno tutte le geolazioni, qui proprio morirà. È un peccato però far morire il mercato a Fano, il mercato questo. Credete che vi possa portar via della clientela a questo nuovo mercato? Ma io penso proprio di no, perché la base è questa, Piazza Andrea Costa, la gente viene qui a comprare il pesce. Quindi ormai avete una clientela affezionata? Sì, sì, sicuramente. Grazie. 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 Grazie.